Fino a 5.000 euro a persona per viaggiare dalla Bosnia alla Croazia, più altri 350 euro per arrivare in Italia, attraversando la Slovenia. Sono le cifre che dovevano pagare i migranti per percorrere la rotta balcanica a un'organizzazione criminale composta da sei passeur, tutti arrestati. La procura distrettuale di Capodistria da tempo stava indagando fino a riuscire a fermare la banda. A capo dell'organizzazione un 31enne di Ljubljana e un 33enne della Bosnia, che coordinavano il traffico di migranti, coadiuvati da tre sloveni tra i 20 e i 21 anni e un kosovaro 43enne. Quest'ultimo, residente in Italia, era già noto alle forze dell'ordine e insieme ai ventenni sloveni gestiva il sistema di trasporto. Sono 17 i migranti di varie nazionalità come Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan che sono stati trasportati in Italia dalla Slovenia. Secondo l'indagine i sei passeur sono riusciti, attraverso i loro traffici, a guadagnare tra i 68.000 e gli 85.000 euro. Nel corso dell'attività di investigazione sono stati anche sequestrati cellulari con i quali i trafficanti comunicavano costantemente per segnalare posti di blocco e per indicare il percorso al passeur di turno. Nell'operazione è stata requisita anche della droga.